E quindi mi hanno detto che mi avrebbero chiamato eventualmente dalla tutela del consumatore per passare su un altro operatore che avrebbe mantenuto un prezzo vantaggioso. Sicuramente mi ha chiamato questo ufficio amministrativo di Illumia, dicendo che da 0,18 passava a 0,30. Mi ha detto va bene, mi ha chiamato adesso l'ufficio tutela del consumatore e mi ha comunicato i prezzi. Mi ha comunicato i prezzi di Illumia, Energia, A2A e Sorgenia. Sorgenia è 0,15, A2A è 0,20, Energia è 0,22, capito? Invece Illumia passa da 0,31. Non ho fatto né contatto né nulla, mi ha dato questa informativa e basta, capito? Quindi non lo so, se Sorgenia è 0,15 e Illumia passa da 0,30, minchia. Questa persona qua, Marco, è un ingegnere, non è uno stupido, non è un cretino. È una persona molto accolta, ha due professioni perché è un ingegnere e ha altre attività, sempre sue, che vanno bene. Quindi non è uno stupido. E se ci casca lui, ci possono cascare chiunque.